amadeus volben la potenza creatrice del pensiero amadeus volben a cura di vb mediterranee quando l'uomo rivolge troppo insistentemente la propria attenzione ai mali e agli aspetti sgradevoli delle cose egli opera dannosamente su se stesso assorbe nel proprio essere quei mali e si colora negativamente chi ha troppo fisso l'occhio al burrone finisce col precipitarvi l'alimento migliore rivolgere i propri pensieri a ciò che è bello e buono e armonico ciò aiuta anche a operare vantaggiosamente per la propria salute fisica psichica e spirituale la gioia o l'infelicità è fatta dall'uso che si fa del proprio pensiero cessa da ogni agitazione irrequieta dalla mente che vola da un oggetto all'altro senza posa sottoponendo il cervello ad un lavoro continuo quanto inutile l'amore reale per le cose dei mondi superiori ti renderà più attraenti gli oggetti di quei piani e quelli del mondo inferiore nel quale vivi così la tua mente dimorerà più felice coi pensieri che a quei mondi sono rivolti noi siamo una parte dello spirito infinito siamo un'estensione di esso come il braccio di mare e l'estensione dell'oceano ma anche ogni goccia del mare è uguale in tutto a quella dell'oceano nella nostra dimensione attuale noi possiamo sembrare lontani e diversi da quella luce infinita ma noi siamo rivolti verso quella meta noi possiamo modificarci migliorandoci e ci miglioreremo mantenendoci in unità di pensiero con il padre mentre ora siamo in piccolo quello che lui è nel grande ciò che è vero per lo spirito infinito sarà vero per l'uomo che vive col pensiero unito a lui continua grazie a tutti grazie a tutti